dei tensori, in particolare del tensore delle vicività ma mi sono accorto che a un certo punto davo pesconto una cosa che invece mi ha dovuto far riscrivere tutte le slide quindi la aggiungo qua e è una notazione quando io ho per esempio una sommatoria con un indice I che va da 1 fino a N G, R, I, Vector, P con I ok, è una cosa che si conosce è un po' ritondante questa roba qua ok, intanto se c'è indici sommati cioè indici ripetuti, I con I noi sappiamo che stiamo intendendo questa roba qua allora, ecco, nelle prossime cose io userò la notazione di Einstein che fa sparire il simbolo di notazione e quindi questa roba qua diventa semplicemente R con I Vector, Figuri ok, il momento della quantità di moto come esempio ok, detto questo volevo parlarvi di lui questo è Epsilon con IJK chiamato tensore di leve civita ma già qua bisogna un attimo aprire una parentesi perché tensore sì ma dipende quando allora, è un argomento di fisica 2 e quindi diciamo che finché noi non entriamo in relatività generale in cui non si usano necessariamente spazi o clidei normati quindi magari si usano uno spazio-tempo quadrimensionale, curvo questo roba qua è un tensore finché noi entriamo in cose strane abbiamo uno spazio-tempo che è solo spazio piatto senza curvatura, no problem questo qua è un tensore e posso spiegare cos'è, se no non lo so ancora ma prima cos'è un tensore e mi sono messo a spiegare e poi ho detto aspetta, no ma cos'è un vettore? giustamente bisogna definire prima cos'è un vettore e poi generalizzarlo ok, un vettore potrebbe essere definito come semplicemente un elemento di R alla N serve molto carino però se io ho il mio sistema di assi, per esempio in R3 una cosa fatta così è un vettore dovrebbe essere un elemento in R3 perché non lo è? perché i vettori hanno una definizione abbastanza particolarina ossia se io ho un vettore R in uno spazio, per esempio, così in x, y, z e io mi metto a guardare da un altro punto di riferimento magari cambio assi, cambio coordinato cioè qualche casino ovviamente lo vedo da un punto di vista diverso R' come sono legati questi due vettori dovrei trovare le coordinate di ogni singola di ogni singolo asse esprimere come coordinate rispetto all'altra inserire magari una matrice dobbiamo ottenere in qualche modo un collegamento tra questi x, y, z e x' y' e z' e poi forse moltiplicando per le coordinate di R' nel sistema di destra otterrei qualcosa però c'è una cosa molto più bella la definizione di vettore un vettore è un elemento appartenente a R alla N tale che quando questo qua viene visto da un altro punto di vista R' si comporta come A per R in cui A è una matrice di trasformazione e R è lui stesso quindi una matrice di trasformazione è una matrice ortogonale che ha una forma spesso così giusto? sì coseno di un angolo seno, meno seno coseno poi ci sono casi particolari in cui per esempio qua ho ottenuto z fisso quindi in realtà qua aggiungo una terza riga una terza colonna dovrebbe essere una roba del genere comunque una matrice ortogonale che è ricordiamo la proprietà l'inversa è uguale alla trasposta ma quindi A per A la meno 1 uguale A la meno 1 per A uguale identità io posso sostituirci A trasposta e no problem ok prima di passare a tensori vediamo un attimo cosa esiste in natura generalmente noi abbiamo visto che ci sono i scalari i tensori ma in realtà quando andiamo a descrivere la natura le cose vere ci sono degli agenti molto più complicati che sono i spinori che sono letteralmente la nostra modellizzazione matematica di elettroni i positroni buoni e chi ne ha più le metodi particele elementari mentre invece noi pensiamo di sapere cosa sono i scalari no diciamo sono numeri sì 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 sono numeri però se dici soltanto che sono numeri potrebbero essere visti come dei tensori in modo dimensionali di rango 1 adesso ci arriviamo e quindi cosa sono? sì sì sono numeri però qualche annetto fa è stato scoperto un tensore che non è proprio un numero è un bosone di x quindi hanno una definizione loro mentre invece possiamo parlare dei tensori i tensori sono degli oggetti con 1 più indice che hanno un certo rango quindi e posso diventare diverse cose nel senso posso diventare una matrice che abbiamo studiato studiamo una matrice n righe m colonne o posso essere dei vettori dato che i vettori sono diciamo un caso particolare di matrice o colonna o riga ok questo qua sono casi particolari ma quello generale com'è? come definiamo un tensore ha lo stesso modo in cui abbiamo definito un vettore quindi in base a come si trasforma sotto rotazione quindi quando noi abbiamo un tensore i j visto un altro punto di vista questo qua cambia gli indici e può essere descritto tramite le coordinate di una matrice in questo modo questa cosa qua ricordiamo la notazione di di Einstein quindi gli indici sommati qua abbiamo i con i j con j e loro due sono gli indici liberi e sono qua scritta peggio diciamo che è lei la reazione e diciamo scritta peggio perché questa qua ricorda tantissimo la definizione di matrice simile no? si penso che t primo sia una matrice posso dire in questo caso che dato che esiste una matrice a invertibile e ortogonale questa t primo è simile a t quindi hanno la matrice hanno lo stesso rango la traccia ogni invariante tutte le proprietà che conosciamo però è definita come analogo dei vettori e ok ora possiamo parlare del tensore di levicinità ok il tensore di levicinità ha tre indici ijk ed è definito semplicemente con tre numeri o 0 o 1 o meno 1 iniziamo con 0 che è il caso più facile 0 sarebbe quando questo oggetto qua ha due indici che hanno lo stesso valore ok ijk possono correre liberi possono assumere qualsiasi valore tra 1 2 3 ok quindi può esistere 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 e abbiamo capito il giochino però quando questi due indici qua sono uguali lui assume il valore 0 ok quando è che è diverso a 0 quando partendo per esempio dal caso più base 1 2 3 questo assume è esprimibile come una permutazione ciclica e aggiungiamo una piccola parentesi ossia se abbiamo definito 1 2 3 tale che ijk vale 1 ok posso fare una permutazione ciclica quindi prendo un elemento e lo sposto qua a destra ottenendo 2 3 1 questa è una permutazione ciclica quindi se io ho un epsilon 1 2 3 oppure epsilon 2 3 1 è un modo molto scomodo per scrivere il numero 1 ma posso anche fare un'altra permutazione ciclica spostare il 2 a destra ottenere 2 3 1 2 e poi l'ultima 1 2 3 ma grazie 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 al computer quando è che una permutazione non è ciclica quando per esempio se io parto da 1 2 3 non faccio solo uno scambio di numeri ma ne faccio almeno 2 ossia per esempio prendo il 2 lo metto al posto del 3 e metto il 3 e lo sposto al posto del 2 quindi ottenendo 1 3 2 queste cose qua mi fanno assumere il valore di epsilon meno 1 perché sono più scambi non è uno solo una domanda ma se io parto da questa e faccio una permutazione ciclica quindi ottengo 3 2 1 quanto vale? vale 1? vale meno 1? di sicuro non vale 0 perché non abbiamo degli indici uguali però questa cosa qua di nuovo posso ottenerla da lei faccia invertendo per esempio cambio colore il 3 e l'1 ma quindi ho fatto due scambi quindi no vale sempre meno 1 in generale se io ne faccio una non ciclica è indifferente che io poi scambi le cose 2 1 3 perché questa cosa qua è sempre un caso in cui epsilon vale meno 1 ok quindi adesso noi potremmo fare un bel po' di calcoli e ottenere per esempio che è ok dobbiamo fare un bel po' di calcoli perché dobbiamo fare epsilon 1 1 1 epsilon 1 1 2 epsilon 1 1 3 poi cambiamo indice epsilon 1 2 1 epsilon 1 2 3 io non so contare epsilon 1 2 2 epsilon 1 2 3 eccetera fino ad arrivare finalmente all'ultimo che è epsilon 3 3 3 ok possiamo calcolare questa qua la permutazione ci sono tanti numerini però ah facciamolo dai quanti calcoli dovrei fare sono 9 per ogni caso ma sono 3 casi quindi in realtà sono solo 27 ok e se io vi dico fidatevi di me una bella visualizzazione del tensore delle vicività è una cosa del genere adesso la scrivo 0 meno 1 0 poi abbiamo 1 0 0 e poi abbiamo 0 0 0 questo è quando i vale 3 e sono tutti i casi poi abbiamo quando i vale 2 cioè c'è poi soprapporlo un attimo un poco 0 0 1 0 0 0 meno 1 meno 1 ok 0 0 e poi l'ultima ok quando i vale 1 abbiamo eh no troppo simile 0 0 0 0 0 0 meno 1 0 1 e 0 ok ci sono tante ehm visualizzazioni di un tensore elevicività ma se riuscite un attimo a immaginarvelo ehm questo qua è come se fosse un cubo che è la prima faccia verso noi ehm gialla che lo vedete in giallo poi la seconda parte mh tridimensionale è in azzurrino ecco è in azzurrino e poi l'ultima parte quando i vale 3 è in rosa quindi un elemento tridimensionale una matrice di matrici diciamo ok adesso lo riscrivo un attimo però comunque 0 0 0 0 0 meno 1 0 1 0 ok se si vede abbastanza sono felice perché l'abbiamo introdotto ok ci sono perché l'abbiamo introdotto perché ci può far fare alcune cose più velocemente o più lentamente diciamo ehm abbiamo una matrice che è definita come elementi chiamati A con dei pedici i congei se io chiedo quanto vale terminante di A ok facciamo un caso semplice perché una matrice 7x7 è un pochettino lenta quindi prendiamo una matrice A 3x3 niente di troppo grosso quindi che ha qua A 1 1 A 2 2 A 3 3 e poi abbiamo qua A 3 1 A 3 2 A 2 1 A 2 3 A 1 3 e A 1 2 ok quanto vale il terminante di A primo è teorema di Laplace posso farla posso farlo così espando lungo la prima riga quindi è A 1 1 per il determinante di A 2 2 A 2 3 per A 3 2 A 3 3 poi questo si becca un meno perché la somma fa 3 quindi avremo un meno 1 alla 3 che fa meno A 1 2 per il determinante di A 2 1 A 2 3 per A 3 1 A 3 3 e poi questo qua si becca un più perché a meno 1 alla 4 più cosa più A 1 3 per il determinante di avete capito lei ok lunghino vero? sì adesso ve lo faccio vedere in modo più lungo ok usando il tensore delle visibita questa cosa qua la puoi scrivere come sommatoria per 3 indici contemporaneamente che vanno da 1 fino a 3 di cosa? di y j k per a 1 i cerco di farle un pochettino diverse per a 2 j per a 3 k cosa significa avrà senso perché c'è la sommatoria quando abbiamo detto di utilizzare la notazione di Einstein non dovrebbe non esserci eh sì non dovrebbe esserci se io scrivessi così y 1 j k più questo qua con i uguale a 1 più y 2 j k con tutte queste qua con i uguale a 2 più y 3 j k ok tutto questo è schematizzabile con un indice i che vale 1 2 3 e poi dato che loro sono comunque indici ripetuti perché ci sono vanno sommati mettiamola per essere molto molto chiari ok ma bella funziona veramente sta cosa adesso ci mettiamo qua e facciamo un po' di calcolini e dimostriamo che la cosa è bella e che funziona allora il primo caso abbiamo detto è quello y11 ma ha veramente senso farlo cioè ha senso fare 27 calcoli per un determinante a sto punto uso la plus questa cosa qua ha senso y11 y12 y13 3 no perché io voglio fare dei prodotti poi li sommo tutti ottengo un numero e continuo così ma qua abbiamo due indici uguali due indici uguali due indici uguali quindi prima di fare questa cosa qua y per definizione quando ha due indici uguali vale 0 più 0 più 0 quindi anche per le successive volte io non farò mai questa cosa qua 2 2 2 per epsilon 2 2 3 loro sono sempre 0 più 0 più 0 quindi non li prendiamo neanche in considerazione ok detto questo come faccio a ricordarsi come si usa il tensore di levicività e riscriviamoci un attimo determinante di A uguale yJK A1I per A2J per A3K ok sommatoria abbiamo già chiarito la questione ok come faccio a ricordare si fa così prendo il primo indice e do un valore e poi sviluppo tutti i casi con quel valore ovviamente abbiamo appena detto tutti i casi sensati quelli in cui c'è 1 1 1 1 1 2 1 1 3 no in generale indici ripetuti indici uguali fanno 0 quindi il primo caso è 2 3 e poi esisterà un altro caso in cui 1 è fissato e poi c'è 3 2 ne esistono altri con i uguale 1 no ok quindi andiamo a vedere A 1 con i che vale 1 ok per A 2 con j che vale 2 e poi per A3 con k che vale 3 è il più banale e fra l'altro vedete 1 1 2 2 3 3 questi qua sono gli elementi diagonali di una matrice poi abbiamo invece il caso in cui abbiamo A1 i vale 1 A2 e j vale 3 è lui ok e poi A3 con k che vale 2 ok questi qua sono tutti in somma perché gli indici ripetuti erano sommati e continuiamo il nostro bellissimo caso abbiamo finito i casi con i uguale 1 facciamo correre gli indici i uguale 2 quanti casi ci sono? esiste 1 3 oppure esiste 2 3 1 esistono altri sì ma fanno 0 e andiamo avanti A A1 e i vale 2 A2 e j vale 1 e poi c'è A3 con k che vale 3 poi abbiamo A1 2 per A 2 3 per A 3 1 e l'ultimo più epsilon abbiamo detto l'ultimo caso quindi io uguale 3 e facciamo i due casi 1 2 più 1 epsilon con sempre 3 e poi 2 1 ne esistono altri sì ma fanno 0 io lo ripeto A1 ma i vale 3 A2 ma j vale 1 A3 ma k vale 2 e poi abbiamo qua A1 ma i vale 3 A2 ma j vale 2 e poi abbiamo un A 3 ma k vale 1 ok abbiamo finito sì possiamo semplificare a voglia allora A epsilon 1 2 3 quanto vale? 1 3 2 quanto vale? lo otteniamo come permutazione ciclica? se vi ricordate no ma se non vi ricordate notate che qua per ottenere 1 2 3 dobbiamo invertire 2 quindi non è ciclica e quindi epsilon quando non è ciclica vale meno 1 poi abbiamo 2 1 3 è ciclica? di nuovo dobbiamo invertirne 2 per ottenere 1 2 3 quindi no vale meno 1 2 3 1 è ciclica? sì perché basta spostare l'1 qua per ottenere 1 2 3 quindi vale più 1 lei è ciclica? sì perché basta spostare il 3 di qua quindi vale più 1 lei è ciclica? no perché bisogna fare due scambi cioè lui va di qua e lui va di qua esatto quindi vale meno 1 notate una certa stimmetria fa l'altro ok 1 meno 1 1 meno 1 e poi in mezzo sono invertiti meno 1 è che cacchio è 1 ok lo vogliamo scrivere di nuovo? no non proprio ma ehm che padre sì dai lo scriviamo facciamo così dato che siamo fisici noi sappiamo che 1 2 3 sono le coordinate di un vettore quindi r 1 2 3 in pratica è rx r y r z ok usando appunto l'esempio di prima va vettore posizioni e quantità di moto ok ok p1 p1 uguale px p2 uguale p y e p3 uguale p z sono le coordinate di questi vettori tridimensionali ah che no tutto torna avevo fatto questo esempio qua vettore scala rotto vettoriale con quantità di moto quindi il momento della quantità di moto oh che bello questo qua noi lo avremmo fatto con una matrice con ijk rx ry rz px py e pz molto bello ma facendolo come abbiamo detto noi lo possiamo fare appunto così è identico questo qua sarebbe r x x per r y e y y scusate e ah no ok a 1 1 a 1 1 è lui è verso re a 2 2 ry e pz sarebbe a 3 3 ok sono in questo modo che sono disposti all'entrata di una matrice e poi tutti loro e quindi finalmente questa cosa qua la possiamo scrivere come noi sappiamo a 1 1 quindi inversore i per questo per lui meno lui per lui per lui r y per pz meno rz per py è giusto ok poi notiamo che qua sono invertiti i simboli meno 1 e più 1 io li raccolgo così gli faccio aumentare più 1 meno 1 raccolgo il meno cambia qualcosa sì è un po' più intuitivo da vedere perché diventa rx pz meno rz px poi l'ultimo più lungo k rx py meno r y per pz vi ricordo qualcosa? lui è il determinante di questa sottomatrice lui è il determinante di questa sottomatrice e poi finalmente lui è il determinante di questa sottomatrice la confusione è tanta per i colori e per la scrittura pessima ma abbiamo appena dimostrato che il tensore di l'epicipita ci serve per fare per esempio i determinanti con le matrici per esempio questo qua è il primo elemento della prima riga per il determinante della sottomatrice meno il secondo elemento della prima riga per il determinante della sottomatrice corrispettiva più il terzo elemento della prima riga per il determinante della matrice ottenuta cancellando prima riga terza colonna quindi è lo sviluppo di Laplace sulla prima riga credo che questo sia tutto forse possiamo anche far vedere un'altra cosa esiste un altro tensore che a seconda dei vari casi è il tensore o no che è il delta di Kronecker è un elemento che ha soltanto due indici e è definito così semplicemente 1 e 0 e qua vale se i è diverso da j e qua invece vale se i è uguale a j ok possiamo per esempio vedere un paio di cosettine apicon problematazione ogni tanto vedete il j non scritto qua ma scritto qui di nuovo finché siamo in uno spazio tempo euclideo no problem no reattività generale no cose strane non c'è differenza basta che capiate che è soltanto un apice e non è una potenza poi va bene tutto e per esempio che coreazione c'è tra il tra il delta di Kronecker e il tensore di levicività e la prima cosa è un'applicazione di questo tipo voglio fare il prodotto tra due tensori di levicività che hanno indici uguali alla parte interna questa cosa qua si può dimostrare che equivale a loro a 4 delta di Kronecker la domanda è con che simboli e il modo per ricordarsi è antisimmetria quindi ij lo lasciamo così ijj mentre invece l'mn la prima volta lo lasciamo mn la seconda volta diventa nm ok questo è un esempio in cui abbiamo la contrazione questa cosa è una contrazione di due simboli delle vicività un'altra può essere per esempio invece il caso più brutto in cui hai y ijk per y l mn questo qua è il caso molto molto noioso perché è molto lungo da scrivere dovrei scrivere allora 1 per 1 1 meno 1 1 poi abbiamo meno lui per la stessa cosa una seconda volta e direi ancora una terza no la terza mi ricordo che è diversa più delta delta meno delta delta e qua credo che c'è un terzo qua cambia ok che pedici metto l'hai esposto a breve e non ci penso nemmeno cioè no quanti è che ne ho scritti 3 6 9 12 15 6 17 non provo neanche a mettere 17 indici il modo un pochettino più antisgamof per ricordarsi il prodotto di due simboli di levicivita non che sia facile ma non stiamo facendo cose troppo facili è lui è come fare i terminanti di una matrice che sulla prima riga ha delta l per delta l per delta i m non per delta capiamoci per delta i n poi abbiamo delta j l per no non per di seguito delta j m e delta j n è una cosa abbastanza visuale ok qua c'è una k i j k e sono tutti con la m e qua sono i j k e tutti con la n ok è lui come fare a ricordarselo ci si vede abbastanza che qua c'è l l l qua c'è m m e poi qua c'è n qua c'è n e qua c'è n è abbastanza visuale e e poi vediamo qua che c'è una i qua c'è una i qua c'è una i e qua che c'è una j e poi c'è una k una k e una k ok troppi simboli troppi colori troppo complicato però ecco non è una cosa facile e cosa serve questo? appare appare se hai tanti prodotti vettoriali se hai se hai tante cose e direi che basta ho fatto un bel pippotto e vi faccio dire una cosa carina se riesco ossia i miei appunti fisica 2 oh yes questo è una cosa carina che vi ho fatto disegnato io male ma vedete come il tensore di livecività può essere visto in modo tridimensionale tra l'altro ringraziamo l'Atec che questa qua non è un'immagine cioè si è un'immagine ma non è non è grafica sono linee di codice quindi per fortuna non perde risoluzione quando zoom è un'immagine vettoriale si dice grazie e orua è un'immagine Grazie.